salve buonasera buonasera a tutti è il secondo appuntamento questo secondo evento o la seconda conferenza organizzata dalla neonata associazione la voce wagneriana la nuova associazione italiana dedicata a richard wagner io sono luca maria spagnolo sono sono il presidente di questa associazione che sarà votata principalmente allo studio del documento wagneriano sia favorire la traduzione la diffusione naturalmente la traduzione principalmente di quelli di quei testi di quei documenti che o sono di difficile reperibilità oppure non sono stati mai tradotti in in lingua italiana oggi è il secondo appuntamento abbiamo nuovamente con noi andrea camparsi e anche tra i fondatori c'è andrea e anche tra i fondatori della della voce wagneriana nell'appuntamento di oggi parleremo anzi il titolo della conferenza di oggi è attraverso il sublime il bene e a proposito di documenti wagneriani avremo leggeremo una lettera inedita in lingua italiana composta nel 1889 da cosima wagner e indirizzata a max cox max cox abbiamo già incontrato nel nostro primo appuntamento un mesetto fa il 24 giugno quando abbiamo iniziato i lavori della voce wagneriana max cox fu un professione un professore di germanistica morì nel 1931 fu un ammiratore fervente ammiratore di wagner tanto da essere l'animatore anche di due importanti circoli wagneriani max cox poi oltre a essere un wagneriano è ricordato per aver scritto una importante monografia mai edita però in lingua italiana una monografia dedicata a wagner uscita in tre volumi dal 1907 fino al 1918 data dell'ultimo volume proprio all'interno di questo terzo e ultimo volume della monografia composta da max cox dedicata a wagner proprio in questo terzo e ultimo volume è presente riprodotta per intero la lettera che lui ricevette nel 1889 da parte di cosima wagner quindi entrerei subito nel vivo dei lavori della conferenza ringrazio nuovamente andrea camparsi di essere di essere qui e la prima domanda che rivolgo ad andrea ecco banalmente dobbiamo occuparci di questa lettera del 1889 quindi la prima domanda semplice per quale motivo cosima wagner la moglie di richard wagner perché cosima scrive a max cox grazie luca e buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo qui su facebook e rispondo subito alla tua domanda ma innanzitutto siamo sul lago di garda siamo riva del garda siamo nel settembre del 1889 e settembre è il mese che segue all'agosto del festival nell'agosto 1889 c'erano stati i festival a bayreuth e la hüterin la cosiddetta la custode diciamo del del festival della collina verde di bayreuth si concede un momento di pausa con i figli siegfried e eva e si reca appunto all'hotel du lac di riva del garda una pausa in famiglia anche perché nella vicina arriva nella vicina gardona riviera quindi a pochi chilometri da riva del garda vi era villa carniacco quella che poi diventerà il vittoriale di gabriele d'annunzio e villa carniacco era la villa la casa dei coniugi tode enri tode storico dell'arte anche lui fervente wagneriano e la moglie soprattutto daniela senta fondi la prima figlia di cosima wagner figlia anche del primo marito hans quindi un momento di pausa un momento di riflessione dopo i festival dopo il grande lavoro e cosima legge le recensioni risponde alle lettere e in quei giorni siamo nel settembre abbiamo detto riceve proprio due copie di una rivista deutsches bockenblatt una rivista berlinese nella nei quali numeri 5 e il 12 settembre max cox aveva proprio pubblicato una recensione dedicata ai festival ed è lo stesso max cox che invia a cosima wagner copia di questa di questo lungo articolo cosima wagner da talmente importanza a questo articolo che legge e risponde al al professore e ora vedremo appunto per quale motivo risponde e cosa conteneva questo articolo di cox vedremo che non sarà una semplice recensione ma un saggio potremmo dire critico e di un professore che decide di di divulgare il verbo wagneriano potremmo dire l'importanza culturale di wagner quindi banalmente possiamo dire è questa una lettera apparentemente soltanto di ringraziamento che cosima scrive a max cox perché ha scritto una recensione ecco relativa alla ai festival di di quell'anno adesso leggo la prima parte di questa lettera una parte molto molto densa e ricca dopodiché la commenteremo anzi la commenterai tu andrea allora siamo nel 1889 e cosima scrive queste parole a max cox gentilissimo professore sono a voi estremamente grata per il cortese invio della rivista appunto nella quale è stato pubblicato il vostro contributo dedicato ai fest spiele di quest'anno con ampio interesse ho potuto constatare in questi scritti la vividezza delle vostre impressioni e la vostra distinzione così accurata e pungente tra il bello e il brutto voi siete il primo per quanto io ne sappia voi siete il primo che piuttosto che unirsi al comune giubilo per il teatro affollato ha con avvedutezza posto l'attenzione sul segnale che la germania potrà recepire voi avete anche messo l'accento su di un lato del nostro lavoro e ciò mi ha profondamente allietata nell'osservarlo ovvero che il lavoro per bairoit purifica ed eleva coloro che vi hanno potuto prendere parte attraverso il bello il bene suonava il pensiero dei greci attraverso il sublime il bene preferirei dire e mi procura la più profonda soddisfazione rilevare che questo bene sia per noi in costante crescita mi fermo qui perché già ecco cosima ha detto ha detto tanto ha parlato di un lavoro per bairoit che purifica ed eleva poi ha citato i greci anzi forse corretto dal suo punto di vista l'espressione greca attraverso il bello il bene dice attraverso il sublime meglio il sublime rispetto al bello attraverso il sublime il bene ecco per quale motivo cosima dice questo ha scritto il lavoro per bairoit purifica ed eleva e cosa voleva alludere scrivendo attraverso il sublime il bene facendo riferimento naturalmente al pensiero all'esperienza dei greci vai andrea a te la parola certo luca avete visto come queste righe questa lettera così densa con così poche parole cosima in realtà investe il professor co di parecchi punti salienti ma anche di una certa una certa importanza c'è da da onore al professore cosa dice cosima wagner sento scusa un ritorno luca noi non sento un ritorno non sento proprio un po si sento quale ritorno si torna la mia voce ok prova a togliere le cuffie allora vediamo un po togliere un po ancora un po di castiglio si ora adesso forse no provi un po si sento ancora il ritorno in realtà senti il ritorno adesso forse no però no no possiamo andare avanti forse vai ok scusate magari allora riprendo qui allora ecco la domanda che ti ho fatto riprendo così riprendo la fila nelle file del del discorso cosima ha parlato ha citato il pensiero dei dei greci sì lo ha corretto non attraverso il bello ma attraverso il sublime il bene poi anche parlato di un lavoro che per bairoite che purifica ed eleva cosa cosa voleva significare innanzitutto vediamo cosa dice cosa dice cosima una distinzione accurata e pungente tra il bello e brutto è quello che ha fatto co in questo articolo già qui notiamo che l'articolo di co non è un articolo che vuole soltanto descrivere ciò che di bello accade nel festival durante il festival quindi è un wagneriano che però ha un occhio critico perché c'è il brutto c'è il bello e poi cosima dice voi siete il primo e già qui sicuramente il professor co ricevere dalla vedova wagner questa affermazione voi siete il primo che con avvedutezza avete posto l'attenzione sul segnale perché la che la germania potrà recepire insomma questa è un'investitura ufficiale il giovane co il co che era ancora giovane un professore associato non era ancora ordinario siamo nel 1889 nel novembre del 1889 max co si sposterà da marburg a breslau e lì nel 1896 diventerà professore ordinario di letteratura tedesca moderna sarà la prima cattedra che in quell'università andrà a portare appunto agli studenti di breslau la letteratura tedesca moderna e quindi voi siete il primo perché co quello che poi sarà la particolarità di questo professore non sarà un musicologo e non sarà nemmeno un critico espressamente dedito alla critica drammaturgica delle opere di wagner ma sarà un critico culturale un professore che nella sua biografia che tu hai prima citato in trago rumi come poi dirà lo stesso anche kurt zinger l'abbiamo visto anche l'altra volta eminente musicologo e critico insomma va co mette in evidenza la portata culturale la portata educativa quello che è la bildung per i tedeschi la formazione per questa nuova germania sedan era era l'altro ieri per per co siamo veramente in un secondo reich appena nato era l'età guglielmina potremmo dire che si stava formando e la germania doveva cercare un'identità e l'identità la trovava nella cultura questo forte concetto tedesco e wagner doveva diventare il testimone quindi cosimo dice lei dà un segnale alla germania e poi cosa dice ecco in questo che ecco cosa dice dice che voi avete messo anche l'accento su di un lato del nostro lavoro e ciò mi ha profondamente allietata ovvero che il lavoro per bayreuth purifica ed eleva coloro che vi hanno potuto prendere parte allora innanzitutto dice coloro che abbiamo potuto prendere parte intende dire tutti quei cosi ma poi vedremo meglio perché sia il pubblico sia gli addetti ai lavori e poi cosa dice il lavoro di bayreuth purifica ed eleva allora la purificazione ci può portare a prendere di nuovo in mano la cosiddetta grecomania che wagner aveva manifestato già nei primi scritti del 48 49 e poi per tutta la vita insomma wagner voleva riproporre una sorta di esempio di nuovo teatro greco e l'amore per i greci era dovuto a wagner perché per wagner era importante perché doveva appunto riportare in auge la forza della tragedia greca dimenticare la tradizione e proporre qualcosa di nuovo che però riprendeva i classici e quindi abbiamo la catarsi che ci rifà che si rifà alla poetica di aristotele e poi cosa dice anche cosima eleva e beh qui c'è l'elevazione l'elevazione ci conduce a un filosofo che che wagner aveva amato tantissimo arthur schopenhauer il mondo con volontà e rappresentazione il terzo libro il volume l'opera di schopenhauer era del 1819 ci ha messo parecchi anni ad entrare nelle corde dei tedeschi ma ormai era veramente maturo il tempo e in quegli anni schopenhauer era letto da molti e wagner aveva letto cosima sicuramente capiva benissimo di quello che si stavano perché cosima una donna comunque colta una donna che leggeva una donna che si che approfondiva e quindi l'elevazione l'elevazione perché perché insomma schopenhauer diceva che l'arte era il mezzo privilegiato per andare al di là del mondo delle apparenze il mondo della rappresentazione il mondo della volontà della voluntas che che ci tiene ancorati al quotidiano al fenomenico cantianamente parlando e allora ecco che l'arte ci dà questa rappresentazione adeguata diceva schopenhauer delle idee ma la musica addirittura non ci dà una rappresentazione adeguata va oltre la rappresentazione ci fa entrare proprio nel mondo dell'essenza tant'è vero che io dico spesso quando parlo di questo capitolo di schopenhauer che per schopenhauer la musica è e non si potrebbe non si potrebbe già dire altro perché la musica è essere e questa lezione wagner la prende benissimo lo studia lo comprende si ferma negli anni 50 anche all'interno proprio della della composizione della sua che del suo capolavoro della tetralogia è veramente un angolo una pietra angolare diciamo per la drammaturgia wagneriana e passato schopenhauer cosima in una sorta di ricognizione della cultura tedesca arriva con questa frase attraverso il bello il bene suonava il pensiero dei greci calosca e gazzos il bello e il buono ma cosa dice poi cosima attraverso il sublime il bene preferirei dire da tedesca cosima dice io utilizzo un concetto una categoria estetica fondamentale per il romanticismo tedesco ovvero sia il concetto di erabene il sublime e il sublime è stato un concetto che è stato studiato approfondito da il padre della filosofia tedesca innanzitutto parliamo di manuel cante nella terza critica la critica del giudizio siamo nel 1790 ma poi viene approfondito da tutto quello che è il la portata culturale e filosofica della fru romantica del primo romanticismo e fino arrivare al drammaturgo poeta filosofo per eccellenza che è appunto stato fridrich schiller e io vorrei a questo punto proprio citarvi ciò che schiller diceva a proposito del sublime nel 1801 schiller ha scritto nel 1797 un saggio che approfondiva il concetto di sublime in cante e poi nel 1801 una riflessione sua proprio sul sublime e vediamo cosa come distingue schiller il bello dal sublime quindi adesso ci la ci leggi un brano ecco proveniente da sublime di schiller vai 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 i berdas erabene proprio del sublime due sono i geni che la natura ci ha dato come compagni lungo il cammino della vita il primo dice schiller socievole benevolo con il suo lieto agire a brevia il nostro viaggio faticoso e rende lievi le catene della necessità guidandoci tra diletti e ceglie fino ai punti pericolosi in cui dobbiamo agire come puri spiriti e abbandonare tutto ciò che è corporeo questo è il bello il bello per schiller è l'armonia è il gioco è la erziung la educazione estetica dell'uomo la chiama schiller proprio nelle sue lezioni e appunto questo gioco questo armonizzarsi tra la natura e quindi la necessità la contingenza fenomenica in cui l'uomo è immerso e la sua destinazione sovrasensibile che richiama la cantiana ragione ma dice schiller non è soltanto uno il genio così divertito così sereno arriva un altro genio sempre estetico ed ecco che ora avanza il secondo grave e taciturno e ci porta con il suo braccio possente al di là dell'abisso vertiginoso nel primo genio riconosciamo il sentimento del bello nel secondo quello del sublime nella bellezza ci sentiamo liberi già che gli istinti sensibili si armonizzano con la legge della ragione nel sublime ci sentiamo liberi già che gli istinti sensibili non hanno alcun effetto sulla legislazione della ragione questo è schiller che questo 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 è schiller e adesso la domanda per quale motivo schiller c'è cosa c'entra il sublime allora schiller con compagno ecco perché la categoria di sublime questa elevazione avete visto cosa dice schiller cioè parla proprio dell'abisso vertiginoso se il bello ci porta in armonia il sublime ci dà uno slancio verso l'alto ci fa entrare in una sorta di mondo spirituale e questo questo pericolo è dovuto all'altezza è un'altitudine quasi eterea no talmente alto che ci porta la vertigine e c'è questo abisso e lo stesso wagner lo stesso wagner nel 1872 in un saggio che un articolo breve intitolato uber di benennung music drama sulla denominazione music drama pubblicato i musicali scese nel musicali scese volkenblatt una rivista dedicata proprio la musica l'otto novembre 1872 si sofferma su parecchi se è un saggio molto breve ma densissimo e cosa dice si rifà anche qui al sublime e alla tragedia greca quindi trova e cosi ma queste cose le carte conosceva benissimo e cosa dice wagner faccio una breve citazione le gigantesche opere di eschilo non vennero chiamate drammi dagli atenesi ma fu lasciato il nome sacro della loro origine tragedie canti sacrificali per la cerimonia in onore del dio che eleva gli animi siamo all'elevazione all'elevazione di prima che richiama schopenhauer che ci richiama la cosima e che ci richiama adesso addirittura wagner e schiller quindi c'è all'interno c'è proprio questa 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 categoria estetica all'interno della 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 riflessione della riflessione bagneria e poi un'altra cosa dobbiamo dire che ci fa capire ancora meglio cosa voleva dire cosi ma per quanto riguarda l'importanza dei festival di bairoite c'era anche una questione pratica e fortemente concreta cioè il festival di bairoite aveva questo grande teatro e la il protocollo prevedeva lo spegnimento delle luci in sala allora abbiamo detto che il bello cerca l'armonia con la necessità il sublime invece ci rende liberi ma al di là della necessità la luce in sala spenta porta lo spettatore a annullare ogni percezione sensibile che ha magari certo del suo corpo ma di ciò che è intorno perché è buio quindi non può essere distratto l'unica luce che arriva e quella del del palcoscenico allora ecco che c'è una sorta di concentrazione e di elevazione anche qui e c'è l'abisso che quel golfo mistico che vagner aveva voluto molto profondo dal quale golfo mistico sarebbe dovuta pian piano salire e invadere potremmo dire pervadere il vol la scena la musica la musica che sale la musica che sostanzia la il dramma e da e quindi è la musica stessa poi che dà il ritmo narrativo a ciò che accade in scena dal basso verso l'alto altra elevazione come l'accordo del del reingold dell'inizio esatto come la esatto proprio quell'accordo no così si diciamo quasi tellurico no che è la fondità della terra unico ecco fortemente ancora comunque e cosa dice ancora wagner sempre nello stesso saggio che abbiamo visto adesso uber di veneno music drama sulla denominazione music drama dice ero stato quasi indotto a riferirmi solo alla sua visibilità cioè del del dramma e ad attenermi quindi allo ciao spiel adesso vi spiego poiché avrei denominato volentieri i miei drammi come azioni musicali diventate visibili ciao spiel è un altro modo tedesco per dire azione teatrale azione drammatica ma wagner in questo saggio lo utilizza perché ciao spiel è una parola che ci porta allo ciao e lo spi cioè vedere che lo spi il appunto il il l'azione scenica è una scena che è da vedere va bene e anche qui l'occhio dello spettatore che dimentica ciò che ha intorno e guarda ciò che accade in scena e la musica che sostanzia ed ha il ritmo narrativo a quello che accade il particolare diciamo sulla scena la narrazione che viene pervasa dall'universale della musica che tutti possono capire perché la musica diventa una sorta di linguaggio universale in questo senso allora ecco ancora il sublime che viene richiamato e poi detto questo sempre per richiamarmi al sublime cito una due righe di un saggio di maurizio gianni intitolato melodia orchestrale e gesto scenico nella valchiria pubblicato nel volume la sublime illusione e cosa dice qui gianni di veramente interessante eccolo qua la melodia orchestrale può potenziare il gesto scenico elevando i moti consueti della vita quotidiana che per wagner resta la base del dramma ricordiamoci opera un dramma 1851 la fonte stessa della sua intelligibilità ma la musica eleva tutto ciò sino alla sfera del sublime ancora qui il sublime e poi per concludere questa lunga carrellata di citazioni dedicate al sublime richiama un altro passo di wagner per capire che già che wagner veramente era era che era preso da questo concetto di erabene il romanticismo sebbene tardo era ancora presente in wagner era ancora vivo sì sì ancora vivo è anche in cosi ma era ancora vivo sebbene siamo nel 1889 e cosa dice wagner siamo in un altro saggio ubra schauspieler un zenger sugli attori ai cantanti sempre del 1872 la traduzione qui è sempre di gianni ma ve la leggo perché veramente merita parla sempre del sublime e dice alla fine di una rappresentazione del re liar dice wagner con ludwig devrian un grande attore dell'epoca il pubblico berlinese rimase ancora per un tratto di tempo come ipnotizzato al suo posto e non con i soliti applausi con il solito entusiasmo urlante e tumultuante ma senza neppure fiatare in silenzio quasi immobile come soggiogato da un incantesimo contro il quale nessuno aveva la forza di reagire sembrava a tutti inconcepibile di dover tornarsene a casa e rientrare nel binario di una consuetudine di vita dalla quale si sentivano trasportati indicibilmente lontano qui l'effetto aveva raggiunto innegabilmente il suo più alto livello quello del sublime ecco quindi questo è wagner che c'è che c'è letto adesso quindi è stato molto denso quello che hai detto e siamo ancora all'inizio della della lettera ricapitolando quindi c'hai ci hai parlato citando schopenhauer del lavoro per bayreuth che purifica ed eleva e qui rientrava schopenhauer per quanto riguarda invece il discorso del del sublime giustamente fatto riferimento a schiller e poi anche all'opera stessa di wagner questa categoria estetica appunto il sublime di cui wagner stesso era era per vaso ecco ma schiller non viene soltanto citato diciamo così tra le righe da cosi ma attraverso il concetto la la categoria estetica anzi più corretto dire categoria estetica del sublime cosi ma nella parte successiva della lettera che adesso che adesso leggerò cita indirettamente o direttamente schiller medesimo o meglio lo fa attraverso ricordando una fatica letteraria anzi la fondazione di una rivista da parte di schiller cioè la rivista di le ore ma vi leggo la parte successiva seguente della della lettera di cosima sarà scrive sempre cosima rivolgendosi a cocco nell 89 sarà ascoltata la voce con voi con che voi avete con ragione innalzato si potrebbero avere dei dubbi se si pensa che l'immutabilità del carattere sia peculiarità tanto del popolo quanto dell'individuo e si ricorda che a causa dell'indifferenza che le ore appunto la rivista di hoeren di schiller è a causa dell'indifferenza che le ore cessarono di esistere non ci si meraviglia allora se per gli spettacoli di bairoite non si trovino coreghi cioè non si trovino credo finanziatori per portare avanti l'impresa della di di bairoite ecco perché cosima wagner cita le ore questa questa rivista di schiller andrea perché perché evidentemente adesso andremo anche a città a leggere alcune alcuni estratti leggendo il saggio di cocco cosina aveva capito che il professore aveva colto nel segno l'impresa di bairoite è sempre stata sin dall'inizio un'impresa molto difficile dal punto di vista economico perché il sostegno non è mai stato così grandioso da parte delle istituzioni anzi vi ricorderete l'abbiamo visto anche l'altra volta le critiche insomma i malumori che correvano tra wagner e bismarck tra wagner e l'establishment diciamo del reich e come appunto poi ludwig e i suoi amici diedero una mano proprio al al compositore di ipsia e qui però cosima dice beh ho citato il sublime e ora vi cito di horen cioè vi cito proprio la rivista di schiller la rivista che schiller aveva pubblicato per due anni dal 1795 al 1797 con l'editore cotta di tübingen una rivista che dura poco una rivista che voleva essere una sorta di forum una sorta di blog potremmo dire oggi che raccoglieva le i punti di vista dotti dei romantici del circolo di jena per esempio i primi romantici parliamo di schiller ma parliamo anche dei fratelli schlegel parliamo di novalis parliamo della romana del romanticismo che stava per nascere a fine ottocento ora dice cosima sono passati quasi cento anni dalla nascita della rivista di horen che durata così poco e c'è il rischio che che è la voce di wagner la voce che arriva dalla collina verde di wagner non sia nemmeno questa volta ascoltata e dice si potrebbero avere dei dubbi se si pensa che l'immutabilità del carattere sia peculiarità tanto dell'individuo e qui un po ancora una citazione sciopanoveriana che del carattere diceva più o meno la stessa cosa il carattere quello lo puoi forgiare ma rimane tale ma anche del popolo ma anche dello stesso popolo il folk il cosiddetto folk che diventerà poi un concetto molto problematico in germania è da cosima utilizzato anche per richiamare questa immutabilità del carattere cioè i tedeschi non sono ancora pronti ad accogliere la novità e la profondità se la serietà la profonda serietà dell'opera di wagner e lo dice proprio a coch siamo nel 1889 che nel 1888 aveva pubblicato un articolo molto interessante per il per i literarische volks efte anche qui volks efte vedete che al quale il popolo questa è uscita dedicata alla letteratura il literarische volks efte questa rivista letteraria e aveva scritto quest'articolo was can das deutsche volk von richer wagner lernen punto di domanda cioè cosa può imparare il toice volk cioè il popolo tedesco da richer wagner e co in quell'articolo di poche di una trentina di pagine era stato molto severo e dice vi leggo una piccola citazione che ho tradotto mai un componimento poetico diceva co con così poca possibilità di una sua rappresentazione fu scritto come del ring des nibelungen come la tetralogia mai una costruzione che sarebbe divenuta un monumento nazionale fu costruita con così grande fatica e mezzi limitati come il teatro di bayreuth presso nessun altro popolo civilizzato sarebbe potuto accadere che nonostante tutta l'ostilità al più grande genio vivente e maestro di tutta europa venisse rifiutato ogni sostegno che gli sarebbe servito non per torna conto personale ma per costruire una sicura sede per l'arte drammatica fondata dai maestri tedeschi e questa è un articolo non so se cosima wagner l'avesse letto so che cosima wagner conosceva già max kock so anche da alcune lettere che avevo letto nei miei durante le mie ricerche a roma cosima wagner teneva in alta considerazione il professor coche anzi ci scherzava delle volte dicendo che il professor coche faceva discorsi a volte tanto difficili perché era veramente una persona dotta un dotto un tipico dotto dell'epoca ma qui coche dice insomma il popolo tedesco è ostile nei confronti di wagner wagner è morto nel 1883 ma il popolo tedesco sembra ancora non aver capito la portata non so europea poi lui diventa poi diventerà la portata la portata la portata tedesca perché insomma sapete benissimo il concetto di puramente umano e che portava avanti wagner nella sua ricerca che poi secondo me diventerà un puramente tedesco da un certo punto in poi perché alla germania perché comunque a questi dotti compresa poi cosima wagner interessava innanzitutto le sorti della germania e la grandezza culturale della germania come egemonia diciamo sull'europa e sul resto del mondo ma detto questo vediamo vediamo in sintesi cosa diceva cosa diceva va a coche di questo festival perché aveva criticato questo festival questo festival che era stato dice coche un grande successo tanto pubblico come nel 1888 quindi dal punto di vista del numero del pubblico ma non c'erano problemi che pura c'era un problema dice coche infatti scusate interrompo cosima giusto per per ripetere ehm quello che già abbiamo detto cosima all'inizio della lettera ha detto al di là del del grande della della partecipazione voi non avete nella nell'articolo che avete scritto puntato il dito sulla grande partecipazione ma su qualcos'altro ecco questo qualcos'altro è ciò che cosima ha compreso e ha e ha capito che che coca ha compreso e ha capito che cosima ha riconosciuto quindi ecco vai continua scusa sì questo questo giubilo dice no per il teatro affollato che però esatto sì così è stato il primo che piuttosto che unirsi al comune giubilo per il teatro affollato ha con avvedudezza posto l'attenzione sul segnale che la germania potrà recepire quindi è esattamente eh quello che tu eh ci hai ci hai spiegato ma ehm continuo ecco cos'è che diceva eh coche cosa cosa ha scritto con questa recensione dice la superficialità che ho visto quest'anno a Bayreuth dimostrerebbe una scarsa comprensione della volontà e del lavoro di Richard Wagner e poi dice ancora quella gente che salendo dalla stazione verso la collina del festival si comprava subito il libretto per leggerlo la prima volta durante la rappresentazione o nelle pause non appartiene certamente agli ospiti invitati dal maestro in tale comportamento si nota ancora l'incredibile privolezza di asimata spesso da Wagner con la quale i tedeschi trattano le questioni teatrali la Unglaubliche Frivolität dice proprio Koch i tedeschi sono frivoli i tedeschi arrivano in stazione a Bayreuth si comprano il cosiddetto libretto che libretto sappiamo bene non è e iniziano a leggerlo o lo leggono mentre salgono a piedi facendo la collina oppure nelle pause cosa possono capire i tedeschi della grandezza di Wagner dice Koch nulla non possono capire nulla non possono comprendere la portata non capiscono che quando entrano a teatro non stanno entrando in un teatro qualunque non stanno entrando in un cosiddetto teatro melodramma per ascoltare un melodramma italiano per ascoltare un grand'opera la francese non ascolteranno le arie non vedranno i balletti dei grand'opera non verranno non si divertono non devono divertirsi non devono trovare un passatempo ma devono concentrarsi perché lì dovrebbero andare veramente ad abbeverarsi dalla fonte del sapere per essere consapevolmente tedeschi e infatti cosa dice poche righe dopo se vogliono cioè i tedeschi abbiamo dunque un'arte tedesca questa esortazione fu più volte malintesa o maliziosamente malinterpretata non è che l'arte tedesca è qualcosa con cui ci si possa divertire è qualcosa di profondamente serio dobbiamo ricordare tra l'altro che la letteratura sebbene Bismarck non abbia dato un sostegno sufficiente all'epoca per la costruzione dell'impresa wagneriana di Bayreuth ma l'epoca guglielmina in Germania dà molta importanza alla germanistica e dobbiamo pensare soprattutto a quei territori di contatto l'Alsazia per esempio con l'università di Strasburgo e la Slesia con l'università di Breslau da una parte il contatto con la Francia la nemica Francia e dall'altra parte il contatto con il territorio diciamo polacco e le propaggini estreme dell'impero a Breslau c'era Koch naturalmente a Breslau c'era Koch Breslau accetta di lasciare Marburg e di spostarsi a Breslau nel 1896 diventerà ordinario a Breslau Koch inizierà a scrivere regolarmente nella Schlesische Zeitung il giornale conservatore in lingua tedesca di quel territorio e questa zona queste zone come la Slesia dovevano appunto fare i conti con la cultura tedesca e quindi con la tedeschità che era inviata apposta dal nucleo centrale del governo e con questi germanisti che dovevano portare la cultura e la letteratura tedesca e portare appunto la Germania nei territori che avevano invece culture diverse ecco queste le culture di contatto così chiamate in questo caso la Slesia e quindi Koch è molto sensibile a questo argomento è molto sensibile e infatti cosa dice poi si credeva con ciò di poter constatare diceva Koch un intenzionale contrasto del maestro tra la sua arte e quella dei suoi grandi predecessori come se Wagner avesse dimenticato quello che era successo prima in Germania dimenticando invece che Wagner stesso aveva diretto un'opera di Beethoven in occasione della posa della prima pietra delle feste spielaus come chiaro segno che ciò che si stava compiendo non era in contrasto ma era compimento di quello a cui aspiravano i suoi predecessori Wagner non poteva lamentarsi della scarsità delle opere d'arte tedesche criticò invece che questi lavori come le sinfonie di Beethoven come der Freischütz di Weber come di Zauberflöte il flauto magico il franco cacciatore di Weber e il plato magico di Mozart o gli Sonda di Spohr un'opera che allora era ancora in repertorio erano rappresentate gravemente riturpate che nonostante gli sforzi dei nostri grandi maestri non si fosse formato nessun grande stile tedesco per le rappresentazioni dei loro lavori uno stile che non si poteva formare date le condizioni sfavorevoli una critica che lo stesso Wagner poneva alle orchestre tedesche Wagner trovò le orchestre francesi più preparate di quelle tedesche già allora e Koch sembra quasi riprendere di nuovo la critica e questo piaceva molto a Cosima perché vedeva veramente che il professore aveva colto nel segno facendo queste critiche così così puntuali ma così precise perché appunto la ricerca di cosa era era la ricerca dell'urdeutsch di quell'elemento originario tedesco che lui vedeva nelle opere di Wagner nella teatralogia che vedeva nei maestri dei maestri singer dei maestri cantori che vedeva nel parsifal che vedeva nell'ohengrim che vedeva nel talneiser in tutte le opere vagneriane e in tutti i suoi scritti vagneriani Koch vedeva un elemento prettamente fondamentalmente tedesco esempio sia per esempio la concettualizzazione così profonda che Wagner fa del sublime e ricordiamoci poi qui poi chiudo questo questa parentesi praticamente che Cosima era sensibilissimo a questo argomento come già detto l'altra volta negli anni venti quindi dopo la prima guerra mondiale la repubblica di Weimar venne completamente disconosciuta da Bayreuth dal tetto del Feshpilhaus continuava a sventolare la Reichsflagge cioè la bandiera della Repubblica quindi allora il mio compito è oltre a leggere a leggere i brani anche quello di sintetizzare quello che ci stiamo dicendo adesso ci avviamo verso verso la conclusione della nostra la nostra chiacchierata preferirei chiamarla così quindi i punti che tu hai toccato in questa lettera è la distinzione tra anzi la correzione non attraverso il bello e il bene ma attraverso il sublime quindi analizzare questo 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 concetto del sublime che Cosima ha riconosciuto che Koch ha compreso essere fondante e fondativo del pensiero e dell'opera wagneriana e tu ce l'hai spiegato ce l'hai spiegato benissimo leggendoci dei brani stessi di Wagner poi ci hai parlato per quanto riguarda il discorso del lavoro di Bayreuth che purifica ma soprattutto eleva ci ha citato giustamente Schopenhauer poi nella parte successiva della della lettera dopo Schopenhauer dopo Schiller il ritorno nuovamente Schiller non con il sublime ma con la rivista le ore e quindi abbiamo capito che Cosima aveva il terrore aveva timore che l'impresa wagneriana Bayreuth naufragasse come è naufragato il progetto di Schiller appunto la rivista le ore poi c'è anche parlato di cosa cosa ha scritto Koch in questa recensione perché alla causa che è stata la causa naturalmente questa recensione della lettera di Cosima Wagner e quindi Koch che se la prende con gli avventori con il pubblico tedesco che andava a Bayreuth come se andasse a vedere un melodramma italiano quindi un rapporto un approccio con l'opera wagneriana che non deve essere come un'opera come quella di un'opera di intrattenimento come un lavoro diverso e all'interno di questo discorso tu puoi anche ci hai fatto capire ma già l'abbiamo parlato nell'appuntamento precedente che tra l'altro è anche visibile sul canale youtube oltre che sulla pagina nostra facebook c'è anche parlato di un clima che stava lentamente che sta lentamente mutando sia wagner che diventa il simbolo di un qualcosa cioè della 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 del reich della della germania quindi adesso ricapitolando tutto questo mi avvio verso la conclusione dove cosima dice qualcosa di ulteriormente interessante e forse riesce con un'espressione a sintetizzare ciò che ha detto in precedenza ma adesso leggo quest'ultima parte della della lettera dare l'esempio dice così appunto su questo io vorrei puntare l'attenzione dare l'esempio certamente è questo ciò che conta ci piacerebbe che a noi penso si riferisca al circolo di bayreuth ma dopo tu ce lo dirai ci piacerebbe che a noi che voi molto giustamente definite una piccola cerchia di persone ci piacerebbe che a noi rimanesse concesso di dare l'esempio anche voi stimato professore ne avete dato uno e questo si inserisce da sé nella nostra cerchia credo naturalmente la cerchia il kreis di bayreuth benissimo dare l'esempio io credo che questa sia la sintesi di tutta di tutta la lettera e anche della nostra chiacchierata ci siamo fatti andrea cosa voleva significare cosima nel dire bisogna dobbiamo dare l'esempio un esempio un monito quasi per per il popolo tedesco vai andrea sì 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 infatti cosa diceva provare in by spiel dare un esempio dare un esempio a tutta la germania dare un esempio per un folk per un popolo che deve finalmente diventare un popolo che decide di partecipare al festival con la consapevolezza e con la profondità e cosima lo dice proprio al professor co dobbiamo ricordare una cosa è molto importante questo nel 1886 l'abbiamo già detto anche l'altra volta koch con l'amico lessicografo kurshner joseph kurshner aveva iniziato a pubblicare un nuovo una nuova rivista wagneriana il richard wagner jarbuch durò un anno solo questa impresa 1886 venne ripresa poi da un altro da un curatore negli anni primi anni del novecento ma questo fu un segnale forte per bairoite e per i per ans von volzoghen il redattore storico dei bairoiter letter cioè del del bollettino di bairoite dei poi speciale se rivista ufficiale perché koch disse all'inizio dell'impresa del 1886 vogliamo dare una svolta vogliamo far sì che la cultura apra le porte a wagner e che la cultura tedesca possa prendere che bagno è importante non soltanto perché bagner è all'interno di un circolo prediletto una sorta di torre d'avorio che poi pian piano diventerà anche una sorta di religione di esaltazione di esoterismo ma koch dice per la germania importante attenzione non sto dicendo che che koch vedesse l'esaltazione in maniera sinistra vedeva in maniera sinistra il fatto che questa esaltazione era esoterica ed era magari poco scientificamente dimostrata koch voleva invece dimostrare che wagner era un artista superiore una visione che sembrava cosmopolita verso la fine dell'ottocento ma che poi vedremo perché koch era un comparatista koch studiava la letteratura europea la letteratura inglese per esempio abbiamo visto era un grande conoscitore di shakespeare ma tutto questo lo faceva koch come anche altri suoi colleghi per poi alla fine evidenziare come l'arte per l'arte tedesca era comunque superiore era certo un'arte europea ma era il lacme diciamo della cultura europea era quella tedesca questo poi pian piano koch lo dimostrerà e si rivelerà per quello che poi era e e cosa dice koch ancora qui critica perché poi la critica è ancora serrata dice cito sempre dal suo articolo che cosi non aveva letto uno sguardo alle recite di bayreuth ci conduce alla lieta constatazione che wagner sia riuscito a mettere in risalto il meglio della nostra caratteristica nazionale anche nella sfera drammatica il riconoscimento del maestro tedesco apparirà allora collegato alla domanda di come il popolo tedesco sostenga i suoi sforzi e in tal proposito la risposta può suonare meno degna di lode la comprensione per ciò che bayreuth significa per la nostra vita nazionale è presente ancora solo in piccola solo in una piccola cerchia in una piccola cerchia e non va bene e dice ancora infatti poco dopo ma i circoli wagneriani si dovrebbero diffondere in tutt'altro modo di quanto non si sia visto finora se intendono soddisfare al loro compito se non abbiamo appreso ciò dai lavori di wagner dovremmo perlomeno apprenderlo dalla meraviglia con la quale i paesi stranieri guardano gelosi a bayreuth eifersüchtige dice proprio wagner eifersüchtig nach bayreuth blickt e poi parla di bewunderung la meraviglia appunto quali doveri ci derivano dalle sue imprese flichten proprio dice se noi volessimo sostenere bayreuth allora avremmo un'arte tedesca haine dolce kunst questa è una critica molto severa che coca rivolge non tanto non solo ai circoli wagneriani ricordiamo come detto bene prima luca che co è stato presidente di uno dei circoli wagneriani più grandi della germania e marburg e poi diventerà anche presidente del circolo di breslau ma qui la critica è rivolta anche al bayreuther kreis potremmo dire il circolo ristretto del centrum così lo chiamavano i vagneriani di bayreuth cosima wagner capisce questo cosima wagner è in questa lettera in questa risposta che offre al professore di marburg a professor cof è chiara cioè cosima sancisce definitivamente l'entrata di cof nella cerchia ristretta ma cof può secondo cosima aiutare questa cerchia ristretta ad aprirsi al mondo tedesco è possibile dice cof che gli altri paesi ci guardino con gelosia bayreuth è possibile che tantissimi francesi arrivino a bayreuth e i tedeschi invece si magari ci vanno però in maniera così disattenta loro che dovrebbero comprendere fino in fondo il messaggio del maester e quindi ecco per quale motivo allora cof risperò cof poi pubblicherà nel terzo volume della sua biografia la roccia addirittura su carta lucida una versione anastatica fotografica della lettera autografa di di cosima di cosima era veramente geloso di questa di questa lettera e capiamo perché c'è l'imprimatur potremmo dire ma investitura sì sì un imprimatur che però non è un investitura di bassa lega è un investitura acquisita e guadagnata anche con critiche costruttive che cosima apprende con cura e con attenzione e che riconosce al professore al professor max coca ok quindi dare con con dare l'esempio cosima magari voleva 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 anche dire che bayreuth sarebbe dovuta diventare come una sorta di modello per l'arte tedesca e per per l'arte del futuro giusto per citare per citare valgine quindi benissimo io ti ringrazio andrea grazie molto per l'attenzione questo contributo io ricordo che le traduzioni la traduzione della lettera è opera di di andrea camparsi quindi le traduzioni che noi che noi proponiamo sono tutte quante fatte da noi come 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 associazione i brani invece che tu hai letto di schiller di wagner di coca e di gianni pure se non sbaglio tutto questo poi lo daremo faremo un posto con le indicazioni bibliografiche per essere precisi e corretti ricordo nuovamente che l'associazione è senza scopo di lucro è un'associazione quindi se qualcuno vuole associarsi venga ci può ci può scrivere è senza scopo di lucro non lucriamo e quindi gradiremo ecco abbiamo aperto una una raccolta fondi c'è il link sui nostri canali social su facebook e instagram ebbene se volete ecco fare dare una piccola donazione qualsiasi aiuto è prezioso per noi per poter sopravvivere per poter portare avanti la nostra battaglia il tradurre finalmente il far conoscere wagner quindi io io vi ringrazio se ci sono domande fate altrimenti ecco chiuderei ci sono domande vediamo salutiamo chi ci ha salutato maria paola grazie se non ci sono domande allora io chiudo qui la la conferenza ci vediamo tra i prossimi abbiamo parecchi progetti non so se agosto faremo qualcosa ma sicuramente a settembre avremo qualcosa di grazie grazie al maestro taglia buona grazie mille grazie chi ci ha che ci ha ascoltato ci vediamo o ad agosto penso comunque verso verso settembre e arrivederci buona serata arrivederci grazie luca arrivederci a tutti e buona serata buona serata arrivederci